È sempre più evidente come anche in provincia di Arezzo ormai la curva dei contagi da Covid-19 sia in discesa. I nuovi positivi, secondo il report della ASL Toscana Sud-Est, nelle ultime 24 ore sono 472 nell'Aretino. In tutta la ASL Sud-Est sono invece 1092. Stabile il dato dei ricoveri. Ci sono 38 pazienti ricoverati in bolla Covid all'ospedale San Donato di Arezzo. Il 50% di loro non è vaccinato. 6 coloro che sono invece ricoverati in terapia intensiva. Il 60% di loro non è vaccinato. Per fortuna nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi in provincia di Arezzo. Uno invece a Grosseto, un uomo di 77 anni, vaccinato e con gravi patologie pregresse. Per quello che riguarda i comuni è sempre Arezzo ad avere il dato più alto con i nuovi contagi. Ci sono 128. I guariti sono invece 881.